FIGLIA DEL GRANDE ALDO COPPOLA Non solo capelli, dunque, ma arte, cultura, pensiero e parola che solo se insieme creano la bellezza, quella vera. Monica Coppola lavora come hair stylist e consulente d'immagine con i più grandi fotografi del mondo. Vive per sei anni a New York, dove cura l'immagine di moltissime top model e grandi attrici. Tornata in Italia, si dedica con passione e fervore da ricercatrice ad arricchire il concetto profondo di femminilità, di energia, di natura e di quella grazia che irradia dal suo stile inconfondibile.